Ora faccio il cake alle pere. Allora, ora vediamo che facciamo il cernic con grusci. Un cake per me è un prodotto che non è certo italiano, ma ha origine anglosasso, quindi inglese e americana. Il cake fa parte del red velvet, tutta quella fascia di dolci con burro e sono un po' pesanti inizialmente come consistenza, non è un pane di spagna soffice, ma è un cake proprio. Questo, come in un film, non è sempre normale. Dopo un anno sviluppo, ci sono troppo vite. Sbite, non bite. La mia fissazione di portare queste masse grandi stese mi ha portato a fare un cake steso. E, oggi vi faccio il cake steso con un po' pesco e vi faccio anche il cernic con un po' pesco. Come forse un biscuit. E io rubivo proprio come il normale biscotto. E dopo di che che ho steso il cake lo vado a stratificare con una ganache montata che si fa il giorno prima, deve essere montata a freddo con il filadelfio o una crema di formaggio. Quindi, se vuole la panna si mette il cioccolato, alla fine si mette la crema di formaggio e della panna fredda. Allora, allora, spiegatelo all'inizio, va bene? Sì. Cosa puoi fare adesso? La crema di? Formaggio. Oh. La crema di cheesecake. La crema di cheesecake. Se vuole procedurare a rubire le creme di cheesecake. Prego. Prego. Si bolle la panna. Allora, mi piace il cioccolato con il glucosio e lo zucchero invertito. E nel cioccolato cioccolato con il zucchero invertito. Uno può sostituire tutto con del miele, volendo. Ovviamente, per il zucchero invertito, mi piace fare il mio dito, è spodobbe. Quando la panna è arrivata al bollore, si unisce il cioccolato bianco. Quando la panna è arrivata al bollore, si unisce il cioccolato bianco. Dopo ci mette la crema di formaggio. Dopo ci mette anche le creme di zucchero. Una classica ganache. E così, è una classica ganache. Non lo serve. Dobbiamo fare il cioccolato. Dopo ci mette la crema di formaggio. Ci mette anche la crema di formaggio. Siamo tanti creme serocate. Poi ci mette la panna fredda. E poi da un'importante che sia freddo. Zimna smietana. Questo composto si lascia riposare almeno 12 ore in frigorifero. E pamiętate, cao il ganache, questa mixtura deve impociare 12 ore. Dopodiché si monta. E poi, dopo 12 ore, quando si vissangate, è un pochino che è un pochino. Dà un pochino in planetario e un pochino ubiage. Come vedete, dopo si può anche lavorare a sacca pochino. E poi si può anche lavorare a sacca pochino. E stratificare. E poi si può lavorare a sacca pochino a sacca pochino. Queste ganache montate si possono fare con il cioccolato fondente e il cioccolato al latte. Cambia la proporzione. Ovviamente. Per i ganache, mi prendiamo un cioccolato. Le manche usano un cioccolato, un cioccolato bianco, perché sono delicati. Sì. Quindi adesso ho messo glucosio, zucchero invertito e panna. Bollire. Io chiamo vive glucosio, zucchero invertito e mleco. Latte o panna? Questa è panna. Tutto base panna. Ah, smetana. Ganache e panna. Fiammelo pure così questo. Lo scioglio con il latte bollente. Cioccolato. Io ciò che a sdego robisco una подобna metoda. E emulsione. E adesso mi mesciamo. Sto utilizzando molto in produzione queste ganache perché hanno la nota del cioccolato che comunque piace quasi a tutti. Tocchi ganache ho un barzo d'uso uscite una ruggine postacce in questo caso c'è la crema di formaggio ma può essere solo panna non necessita il formaggio. Ora mi diamo anche le creme che siamo in Filadelfia alle normali ma siamo in avanti con la smetana e non c'è l'acqua. Ora Chris sta mescolando la crema di formaggio con la panna per renderla bella liscia. Metterò tutto qua dentro. Alla terra stiamo in Filadelfia smetana e metto tutto insieme frigorifero 12 ore poi in tacco massa diamo in scirotta vi misciamo concretne e diamo l'odufina e poi si monta ovviamente ce l'ho già pronta da montare. Oggi mi sono già pronti e ci sono che c'è un po' di 12 minuti e noi ci siamo e ci siamo oggi in un po' e poi abbiamo il cake e in un po' viene cake burro grappa pere candite frullate gruschi candidizzate mixavate blendavate al posto del gruschi ci può stare arancio tutto quello che è candito si frulla con mini pimmera immersione quindi arancio limone cioè il gusto del cake lo date con la frutta che volete voi emulsioniamo tutto bene col mini pimmera una volta che la ganascia la crema da montare è pronta si li mette in frigorifero poi il cake abbiamo la farina doppio da zero il tarazzo viene in tacchi jacomo cake c'esto monca sale sempre sale sul zucchero invertito dico bene questo zucchero invertito mescoliamo bene zucchero semolato zucchero normale backing backing lievito chimico panna e cominciamo con i liquidi uovo è un cake che si fa con un'emulsione non è montato mi dai l'uovo questo la grappa grappa terazzo io l'alcol lo metto un po' dappertutto credo che nei dolci come nella vita l'alcol dia un po' di brio un po' di carattere un po' di gusto è vero poi metto le pere il frutto candito che volete frullato e per ultimo il burro il burro liquido la parte grassa o la margarina una buona margarina io vedo non è necessario non è necessario niente solo russi vimessiamo due minuti e è goto ovviamente adesso questa è una dose piccola io metto un chilo e duecentocinquanta grammi di cake su una teglia 40x60 questa è una ricetta per merda teglia questa è una ricetta per scruzzone come ho detto è una porzione a metà solo per fargli vedere come si fanno queste cose una teglia ce l'abbiamo chris bravo dammi un po' su tutto quello tutto che quello là poi dopo questa è la glassa che utilizzeremo per glassare il cake che avete la ricetta comunque cioccolato al latte burro di cacao e noci pralinate si scioglie il cioccolato al latte si unisce il burro di cacao di cacao e poi le noci pralinate tritate la ricetta delle noci pralinate c'è 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 vi spiego vi spiego il procedimento che visto che non le faccio ve lo spiego velocemente è molto facile troverete gli ingredienti acqua e zucchero portate di bollizione di bollizione si mette si mette la frutta secca si mette la temperatura di bollizione di bollizione Un po' di fior di sale e una bacca di vaniglia, e anche il sale dappertutto. Il sole lo scivisce, il sole non si può essere. Quindi una volta che è così si cuoce in forno a 165 gradi. Quindi è nata che postaci, da esce doppiazza, una storia di x-stopni. Appena esce dal forno, quando è ancora caldo e bollente, si bagna con un sciroppo di vaniglia. Lo scivisce, quindi è sbarzo corronzo, prosto spiezza, odraso da esce siroppo. Così rimane molto umido. E questo è il risultato del cake steso. E questo è il risultato che nasce il cake. Non mi dice il biscoffio, perché mi sono nervoso. Questo è un cake. Questo è un cake. Vi consiglio di utilizzarlo da frigorifero, perché quando viene bagnato caldo rimane molto umido, e quindi risulterebbe, adesso che è temperatura ambiente si fa un po' fatica a manovrare. Lo tengo in freezer addirittura, tanto è già bagnato e dal congelatore lo prendo, lo stendo e si lavora con più facilità. Cioè, per esempio, nel succhernismo, si lavora con la crema. Ho anche tre strati di cake. Ho una torta, una torta, ma io uso due dolce. Una torta, una torta, ma io uso due dolce. Ho una torta, una torta, ma io uso due dolce. Quindi, a livello di produzione... Aspetta! Quanti giorni si può tenere questo? In freezer? 30, 40 giorni, due mesi anche, 60 giorni. Chiedi vi, robici e taki ciasto, e ci macce, dosi amraggiare. Chi vuol dire che ci macce, poco ne, mentre stergisci, i 60 giorni. Il cake non soffre affatto. Taki alla biscotta, on vuole, niema problemu, vuole zamraggiare. Bardo dobbia, vicimo io. La ganache montata, visto che c'è all'interno lo zucchero invertito, e quindi lega bene i liquidi, rimane liscia anche dopo 40, 50 giorni. I tach tak a ganache, la tego mazzucchier, in bertovane doscherotka, benjetta grobi, jeteshchiri, benjetta mrojone, rosmrojone, zaschiamastà con barzo, dobro, struttura. Quindi ha una bella durata. Io ci vi cè, dugo, dugo vissimashesco. Poi dopo, una volta fatto la monoporzione della torta, si può glassare, come poi vedete in degustazione. I pugni nasammecoizzo, chiedi ciò, torti e sdrobione, vi starci, tipo, glassare gelovaccio. Questo dei cinque dolci che vi presento è quello più dolce come percentuale di zuccheri. Io lo devo dire questo? Sì. Gli sento che lo devi dire, perché? No, 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 è giusto. Eh, è la verità. On sammuvitac, alle pugni calde sugheruie. Poi tutti quanti dicono, sì, è dolce, così... Mi interessa, diglielo. Che frega me. On sammuvitac. Se è troppo dolce... 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 per l'anno 9 ma cos'è che ti è ispirato a questa torta qua? a questa torta mi è ispirato per trovare un prodotto che sia comodo da fare con una lunga durata e da proporre in vari gusti perché io questa religione di Quadri lo faccio all'arancio alla pera e al limone cambiando le ganache il gusto della ganache e la frutta candida all'interno po prostu on tutaj taki często pokazui na taki sposób ale jeszcze razmówi proces jest jedno zamierza dać gruszkę daje się pomarancia daje się strina daje się wicznie ale to jest na taką bazę robicie różne dessert dobra? quindi faccio tutte delle quadre di tutto il rettangolo e quando facciamo ne facciamo 4 o 5 alla volta stoppiamo e vanno e vanno via ed è un prodotto che dura e il cliente lo apprezzano molto il gusto che piace di più è cioccolato arancia un classico il cioccolato con la marina no cioccolato con la marina che cos'è la marina che è questa la marina cioccolato con la marina idealmente anche il cioccolato con la marina ovviamente io avete visto prima lavoro per la fabbrica fa marina da ormai 30 anni conosco bene il prodotto questo è il cake alle pere questo è il cake sero che è il cake che è il cake